Sono passati 60 anni da quel 13 agosto in cui si iniziò la costruzione del muro di Berlino, una divisione fisica e ideologica tra Est e Ovest che sembra impossibile per le nuove generazioni, eppure sono passati solo 32 anni da quando quel muro non c'è più. Queste le parole del presidente tedesco nel giorno dell'anniversario. Libertà e democrazia hanno bisogno di impegno e passione. Si comincia con la partecipazione al voto che il muro ha reso impossibile per così tante persone, per così tanto tempo. Pensateci tutti alle prossime elezioni parlamentari. E a volte il regime si insinua usando parole democratiche. Quando 60 anni fa i soldati dell'Est inizierano a mettere il filo spinato, gli fu detto semplicemente che stavano ponendo una barriera di protezione antifascista.